senza vostra domanda io vi confesso che questo è corpo uman che voi vedete perché il lume del solo in terra è fesso non vi maravigliate ma credete che non senza virtù che dal cielo delvegna cerchi di soverchiare questa parete così il maestro e quella gente degna tornate disse entrate innanzi dunque coi dossi delle man facendo insegna e un di loro incominciò chiunque tu sei così andando polgi il viso pon mente se di là mi vedesti unque io mi volsi per lui e guarda il fisso biondo era e bello e di gentile aspetto ma l'un dei cigli un colpo avea diviso quando io mi fui umilmente disdetto d'averlo visto mai il disse or vedi e mostrò mi una piaga sommo il petto poi sorridendo disse io sono manfredi nepote di costanza imperadrice on dio ti prego che quando tu riedi vadi a mia bella figlia genitrice dell'onor di sicilia e d'aragona e di che il vero a lei s'altro si dice poscia che io ebbi rotta la persona di due punte mortali io mi rendei piangendo a quei che volentier perdona orribili furono i peccati miei ma la bontà infinita si gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei se il pastor di cosenza che alla caccia di me fu messo per clemente allora avesse in dio ben letta questa faccia l'ossa del corpo mio sariano ancora in cod del ponte presso benevento sotto la guardia della grave mora or le bagna la pioggia e muove il vento fuori del regno quasi lungo il verde dove le trasmutò al nome spento por l'or maladizion si non si perde che non possa tornar l'eterno amore mentre che la speranza fior del verde vero è che quale incontumace amore di santa chiesa ancor che al fin si penta starli convienda questa ripa in fiore per ogni un tempo che gli è stato trenta in sua presunzione se tal decreto più corto per buon prieghi non diventa vedi oggi mai se tu mi puoi far lieto rivelando alla mia buona costanza come mai visto e anche questo divieto che qui per quei di là molto s'avanza grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti